Sono Francesco Martinelli, sono un medico internista specializzato in posturologia ed osteopata. In effetti sono venuto qua a fare il corso in Maria Cornia perché da anni considero il corpo come un'unica entità e da anni quindi sono dell'idea che c'è una relazione soprattutto tra la psiche e il corpo. Il corpo inteso non semplicemente in senso di organo ma anche in senso meccanico. Ho trovato quindi una conferma a tutto quello che pensavo.